Se avete deciso di mettervi in viaggio sulle autostrade italiane proprio oggi, armatevi di pazienza, mettetevi comodi e predisponetevi mentalmente a un viaggio lungo e lento. In questo ultimo fine settimana di agosto è infatti giunto il momento del controesodo temuto da ogni automobilista, con tanto di bollino rosso fino a stasera sulle autostrade italiane funestate da un traffico intenso. I vacanzieri di ritorno nelle città e quelli ritardatari, in partenza verso le località turistiche per accaparrarsi un ultimo strascico d'estate, affolleranno le autostrade, dove sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti per l'intera giornata di oggi, dalle 7 fino alle 22. Per l'occasione l'ANAS ha predisposto un piano di gestione del controesodo estivo sulla propria rete di competenza, impiegando mezzi uomini per il monitoraggio H24 della rete e l'assistenza per il pronto intervento, in affiancamento alla polizia stradale. Sorvegliati speciali saranno i principali assi strategici della penisola, a partire dalle autostrade, che oggi saranno anche interessate dallo sciopero nazionale dei casellanti, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria con le seguenti fasce orarie, dalle 10 alle 14 e dalle 18 di oggi alle 2 di lunedì 26 agosto. Per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti, Autostrade per l'Italia ricorda di aver attivato una serie di misure operative, a partire dal potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia, soprattutto durante le ore dello sciopero. Il servizio di info viabilità sarà comunque garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni.